Ora la parte più vergognosa, fare altri commenti dopo quello detto su queste immagini non credo che sia essenziale, seppure ci sono state provocazioni da parte dei tifosi gialloblu che erano nell'anello superiore dello stadio, i tifosi giallorossi sono stati messi nell'anello inferiore, vengono tolti gli striscioni della tifoseria Capitolina per non dargli impasto ai tifosi veronieri e poi vedete qui le scene che naturalmente non fanno piacere, guardate che una porta di ferro, quella lì che è andata a guardare qui corpo a corpo tra carabinieri e teppisti, un carabiniere va per le piste, un altro carabiniere subirà un taglio con un coltello sull'addome, vedete qui queste scene a dir poco vergognose che rominano il nome